ragazzi sono tornato in questo nuovo video di ggf online oggi facciamo una gara stante con le pemmx ma non so se parkour perchè è un elenco quindi non lo so credo di sì perchè tutte le gare che ho fatto su parkour credo non ditemi che devo fare il glider con la bg ditemi di nuovo perchè io quasi quasi non lo so fare no è così no vabbè diciamo sono messo un gire oh cacchio oh porca perchè oh qua c'è una nuova schianta secondo me oh capriola vai 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 tutto bene ok eh no vedo una parte in aria quindi è parkour eh si è parkour è parkour eeeh mi sa che indurrera mille e po' oh questa qui dimmi un bel primo posto unico unico se non ti levi se non ti levi no no si fa così oggi si fa così si fa eeeh mi sa che dobbiamo riprendere proprio rincorsa ma rincorsa ecco tipo così che ne so vai 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 se non me cosa dobbiamo fare dobbiamo fare così secondo me così no dobbiamo saltare su come come ha fatto come 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 aspetta come ha fatto aspetta fammi vedere come hai fatto tu malandrino no non l'ha fatto non ho capito magari si deve saltare non a me si deve saltare oh io provo no si deve saltare si deve saltare si deve al 100% secondo me si deve al 100% si deve saltare per me ecco si deve saltare oh troppi salti no devo fare l'impennata però poi devo prendere un po' di rincorsa quindi adesso ce la devo fare per forza perchè ho capito eh mannaggia ma non mi salta se non mi salta se non mi salta però dopo un po' mi devi saltare oh ho capito come si fa quindi spostatevi dove entrare in azione pazza luda spostatevi da mezzo di mezzo proprio non dovete spostare ah vabbè alla fine ho capito dai faccio diventa difficilissimo non mi salta non mi salta non mi salta mai non mi salta mai oppure pure del capito pure come si fa oisi era e porca vacca ho capito no porca vacca ma si fa sapete perché mi incazzo? perché non salta lo premo e arrivo per saltare ma non salta oh alcune volte non salta e poi salta vai, vai prima te non voglio che qualcuno metterla non ce l'ha fatta, vedete? oh vedete che non ce l'ha fatta no non è possibile non è possibile si vabbè come fatemi morire in acqua? va vabbè dai non è possibile 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 neanche si vabbè non è possibile non è possibile No, ma dove sono? No, ma dove sono? Spero che questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto lasciato il like e se non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo alla prossima notte, ciao!